ciao a tutti benvenuti al mio canale siamo oggi da action per fare un tour un giro per questo negozio inizio subito ho trovato queste cornice per foto e meno di un euro 0,99 più piccole in 87 eccoli qua e ho visto e diversi prezzi sono rimasta e spalordita dei prezzi 0,72 questi queste qua e ci sono altre ovviamente più costose 1 euro 28 più costose tra virgolette giusto guardate queste che carina 1,99 carinissime ci sono due colori marrone e nero mi piace mi piace mi piace poi 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 qua ho visto questa decorazione in meno di 7 euro guardate queste qua in 5 euro altre in 3 euro e poi ho visto queste che sono per appendere guardate 3 euro 79 e di legno mi è piaciuto continuo continuo perché siamo all'inizio guardate in 2 euro 59 questi qua e questo qua guardate in 2 euro 50 e di vetro ci sono gli animaletti ad esempio c'è la zebra il leone l'elefante e questa decorazione in 4 euro carina poi questo qua è tipo un armadietto in 40 euro e questi tavolini in 42 qua faccio un po' veloce non lo so se vi piace vedere questo e poi voi dopo mi direte la prossima volta cosa volete vedere questi in 20 euro due tavolini questi qua tipo davanzali penso no davanzali no che scusa in 7 euro guardate carini e questo qua per mettere le chiavi in 3 euro questi in forma di cassetta e 4 euro questi qua con i numeri questo è per appendere siano gli orecchini le collane costavano 2 euro in 2 colore bianco e nero io avevo preso questo bianco però poi l'ho lasciato devo venire a comprarlo questo qua in 6 euro un portagioie è carino guardate e poi ci sono bassi bassi decorativi ad esempio questo in 3 euro questo è come un metallo guardate questa qua 1 euro 50 e questa guardate questa corona decorativa in meno di 2 euro mi è piaciuta altre scatole eccole qua vedete in 2 euro e qua 1 euro 38 questi vassoi secondo me questo è alluminio 1,38 cioè meno di 1,40 poi questi piattini qua secondo me puoi mettere qualsiasi cosa tu vuoi questo era come di plastica questo qui guardate 1 euro 50 e poi che altro che altro che altro che altro che altro ho visto questa fragola pensavo costava 7 euro invece no no questa cosa sotto vedete questo è un candelabro qua metti tu la candela in meno di 1 euro c'è il limone la anguria il cocòmero il colore lì mi piace mi piace è molto decorativo e le fragole questo è un vasso decorativo 1 euro 50 e sotto troviamo altri vasi altre decorazioni candelabri ad esempio 2 euro 1,70 euro 1,63 euro queste sono candele però sono a led e quel corpo tu lo toccavi e sembrava che era la cera poi le agende so che a voi e alcune di voi vi piace la cartoleria guardate agende da 2 euro 2,50 euro 3 euro e qua ragazze che vi posso dire c'era tanta 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 gente e vedendo i prezzi capisco perché questo era pieno guardate 18 euro quelle pentole queste qua a 5 questo è per fare tipo cupcake o una cake così in silicone 1 euro 22 questi qua a 3 euro tappettini a 3 euro ragazze poi 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 queste qua guardate in 82 centesimi questo penso per mettere non lo so l'uovo sopra per fare il pane avete capito questo è un termostato cioè un termometro no un temporizzatore a 8 euro troviamo bilancio a 5 euro queste questo è una garafa per filtrare l'acqua e le ricariche in 6 euro ok continuo visto queste qua guardate in 20 euro del marchio philips non sapevo che qua vendevano va bene è la mia prima volta e vendono marche conosciute come le philips questa è la tristar in 18 euro per fare i sandwich decorazione per il giardino 1 euro 50 2 euro guardate questa in 4 euro leggerandole in 2 euro l'una e quelle là in 8 euro poi le farfalle che a me piacciono tanto queste costavano 1 euro 11 e questa qui a 2 euro me la sono portata a casa perché uno mi piace il secondo era l'ultima rimasta 2 euro 2 euro 40 centimetro di farfalla e per 37 centesimi che mi faccio la lingua qua queste casette come di legno da mettere nelle piante poi ho visto questa qua in 1 euro e questo ha la lucha led qualcuno la aveva lachata accesa vedete la lucha lì si riesce a vedere io lo spenta raga non potevo lacharla così perché secondo me queste sono perdite per la per la ditta per questa azienda qua non lo so non mi andava di lacharla così ho faticato un po' finalmente lo spenta e a fianco c'era questa farfalla che secondo me la farfalla costa 3 euro e la formica no che cos'era quella rosa era a 1 euro io comunque lo messo insieme pensando che costavano 1 euro va bene spero che costi 1 euro perché l'ho spostata questo qua è come la luce a led vedete penso che galleggia questi qua sono altre cose per la luce non so come si chiamano 4 euro e ci sono questi cestini in 3 euro in 5 e in 8 però ragazzi non lo so quale sarebbe il prezzo reale perché misurano lo stesso poi ho trovato questi 4 euro questo per poi mettere qua una pianta di quelle belle grosse le puoi spostare dove tu vuoi e di legno per 4 euro con le rotelle qua e questi qui che cosa sono 1 euro 59 ah questo ragazze e allora è come un contenitore tipo tavola però il prezzo non l'ho trovato adesso ti faccio vedere la foto secondo me non passa di 20 euro vedete è carinissimo se ci vengo e chiedo il prezzo se vengo la prossima volta qua ci sono queste copertine 9 euro diversi prezzi e diverse misure ad esempio questo misura 1,40 per 1,80 per l'inverno spero che abbassino ancora i prezzi cucini in 5 euro e l'uno qua vi faccio vedere uno che un altro perché non lo so che vorresti vedere guardate questo che carini carinissime l'abbiamo visto da Pepco da Teddy guardate questo qua così così quello costava 6 euro 96 va bene 7 euro qua in 10 euro questi tappetini sono grandi così come dei pelucci un altro colore là e qua ho trovato questa sedia che mi è piaciuta una sedia di giardino in 30 euro questa si vede che è robusta cioè non è un plastico qualunque mi è piaciuta ci sono due colori nero e verde e qua i capelli in 2,80 euro eccoli qua abbiamo visto da Teddy in 4 euro io ho preso 2 e qua ci sono ancora più convenienti il prezzo ok sotto ci sono questi per andare al mare 1,72 c'è l'ombrello del mare costa 10 euro e questo è un tavolino in 20 euro interessante il prezzo poi qua i bijoux a 2 euro allora ragazzi qua ce ne è tanto io vi farò un secondo video vi farò vedere tutto questo guardate uno ha 79 gli anelli altri anelli così cioè non arrivano a 2 euro non lo so la qualità di questo dovrei prendere uno e testarlo poi vi dirò se per caso voi l'avete visto o l'avete testato ditelo qua sotto guardate a 1 euro tutte queste confezioni di gancetti wow e questa a 90 centesimi e guardate altri orecchini questi costavano 1 euro 80 non arrivano a 2 euro che carini questi qua e ci sono qua altri guardate mmm carinissimi va bene ragazzi il video finisce così ricordate che sono due video alla settimana iscrivete al canale per vedere altri video clicca sulla campanella condividi il video e vi mando tanti visitati ci vediamo prossimamente in un prossimo video ciao ciao